E' ora di aprire gli occhi, svegliarsi per poter vedere quello che sta per succedere, ossia l'inizio della terza guerra mondiale, come è stato già annunciato dalla terza profezia di Fatima, è scritto in vari video e vari post, già mesi addietro, ed era solo una questione di tempo. Ora, aprendo gli occhi, si può immaginare e vedere la pioggia mortale di fuoco che scenderà sul mondo intero, a causa dell'inizio probabile, come riferiscono ieri e oggi i giornali, del conflitto contro la Siria, che potrà sfociare nella terza guerra mondiale e se non è la Siria sarà l'Iran, la Corea del Nord o altro. Ecco perché è importante oramai aprire gli occhi per sapere e prepararsi alla peggiore disavventura che l'uomo potrebbe mai immaginare da 70 anni ad oggi. Eccolo, noi vediamo il primo articolo. Trump non si muove dalla Casa Bianca per la Siria, il Presidente cancella il viaggio in America Latina, schermaglie con i russi nelle acque siriane, la Russia pone il veto all'ONU, anche Macron e Bin Salman pronti all'attacco. Ma vediamo le tre righe che accompagnano che riassumono un po' tutto l'articolo. Ecco, nelle tre righe che scrivo, pubblicando sui vari social, dico, prima volevano distruggere la Corea del Nord, ora la Siria o l'Iran, mentre provoca Russia e Cina, è solo una questione di tempo, poi vedremo scendere dal cielo una mortale pioggia di fuoco. Ma andiamo avanti, solo 24 ore, Siria allerta OE, di 72 ore sui voli di linea, Tram, Tuita, preparati Russia, arrivano i missili. Ecco che le tre righe che scrivo sopra, i vari articoli, dice, sembra che tutti siano d'accordo a bombardare la Siria, una decisione assurda che potrebbe far scoppiare la terza guerra mondiale. Dal Corriere.it, Siria, Tram, pronto ad attaccare, l'ipotesi di un intervento con Parigi. Così faccio presente, nelle tre righe, che dice, Siria, Corea del Nord, Iran, quale sarà la prima ad essere attaccata dagli americani solleati, di sicuro sarà l'inizio della terza guerra mondiale. Ecco allora il significato inquietante che ha avuto il terremoto verificato sia macerata del 4 e 6 della Scala Mercalli e noi abbiamo qua, proprio nel breve articolo, dei numeri, numeri importanti che riguardano l'ora in cui si è registrato il terremoto, alle 5 e 11, ecco l'11 come il 2011, l'anno in cui si sentirono in tutto il mondo i suoni dell'Apocalisse, il 5, i 5 anni che poi hanno fatto seguito con manifestazioni inquietanti in ogni parte del mondo, dalle acque dei fiumi trasformati in rosso sangue, dai cieli e dai vari fenomeni già descritti in decine e centinaia di video su questo canale stesso e su decine e centinaia di post. Poi noi abbiamo nelle iniziali del punto in cui si è indicato il terremoto, come in quello di macerata che sta colpita, le M come mondo morte e così ridicendo è facile capire se uno vuole e tutti possono interpretare con logica il significato dei numeri e delle iniziali delle città o dei posti in cui si è indicato questo come sempre facendo presente che basta volerlo usare la testa e la logica per vedere ciò che comunica ogni terremoto a prescindere da tutto il resto. Così come il terremoto che si è indicato in Giappone che è stata una conferma come ho già detto nel video precedente a quanto avevo scritto a riguardo del treno della morte, si considerato il fatto che il sole è il simbolo che io uso ed è il simbolo stesso che il Giappone era sulla bandiera. E questo rende più evidente essendo appunto il soffitto del mio soggiorno come l'indicazione riportata e detta nel video precedente riguardo il terremoto avvenuto in Giappone fosse diretto come una risposta a quello che avevo appena scritto a riguardo il treno della morte che evidenziava che il mondo come quei ragazzi morti uccisi sotto i treni non avrebbe più avuto futuro. E questo il post che pubblichai dopo aver fatto il video in merito proprio al terremoto fortissimo che si è verificato in Giappone e di fatto dico questo terremoto fortissimo terremoto sembra confermare il video il treno della morte pubblicato ieri sera di cui ho appena accennato il contenuto. Il mondo come quei ragazzi uccisi dai treni non avrà più un futuro e le notizie di cronaca riportate ieri e oggi sui giornali in merito all'avvicinarsi della guerra contro la Siria lo conferma. E così su questo post si faceva presente già mesi fa della possibilità di inizio della terza e ultima guerra mondiale e se non era nel 2017 se non sarà stata nel 2017 potrebbe essere quest'anno nel 2018. In effetti dice con il sole nero del 21 agosto 2017 si rinnova l'attesa per l'ennesima apocalisse anche se molti inquietanti i segni premonitori rivelano che è già in corso l'oscuramento della vita senza indicare il giorno in cui ci sarà la fine del mondo. Però i numeri che emergono da certe date potrebbero indicare l'inizio della terza guerra mondiale nel 2017 e se fosse così ci sarebbe una distruzione enorme sulla terra simile al sole nero dell'Apocalisse e anche se non ci sarà la fine del mondo sarà la fine dell'attuale modo di vivere. E così evidenziava alcuni aspetti dei segni premonitori che comunicavano e annunciavano tutto quello di cui abbiamo parlato in questo video come in altri. L'ultima crisi in America è stata nel 7 marzo 1970 e qua elenca le modalità. Ma noi abbiamo anche 71 anni dopo Hiroshima ricorda 71 anni della bomba atomica e in 50.000 alla cerimonia della commemorazione. Ecco e noi vediamo soprattutto che evidenziano questi segni il presidente Trump il suo primo anno da presidente nel 2017 a 71 anni. Ecco dice sarà lui nel 17esimo anno del terzo millennio che farà scoppiare la terza guerra mondiale. Per cui se non sarà come si evidenzia per il momento la Corea del Nord sembra che sia la Siria come comunicano i giornali oggi e ieri. E così continuando nel porti dice le strade delle città saranno simili a fiumi di sangue come annunciato da molti inquietanti segni premonitori negli ultimi sette anni. E qua appunto fa riferimento a uno dei tanti fiumi, in questo caso in Cina, in cui le cui acque sono diventate color rosso sangue. E qua appunto il giornale dell'industria del turismo che dice Cina è il mistero del fiume diventato rosso in poche ore nella contea di Kang Yan, nella provincia dello Xinjiang. E vediamo appunto l'immagine del fiume enorme le cui acque sono diventate coloro del sangue, segni premonitori, inquietanti, sì, il sangue degli uomini che moriranno a causa della terza guerra mondiale. E così ancora altri fiumi in Cina come in Siberia e in altre parti del mondo. Fiumi che ricordano, come già detto, la terza profezia di Fatima che parlava di fiumi pieni di sangue e fossi pieni di cadaveri. E così qua noi alla fine di questo breve video abbiamo un altro articolo che conferma quanto detto così come Israele sta cercando di trascinare l'America nella guerra iraniana. Dietro Israele c'è la Russia, la Cina. Ecco, per terminare e riflettere su quanto detto basta ricordare ciò che è successo e riporta questo articolo di ieri. Groenlandia il ghiaccio si scioglie e tornano a galle segreti militari USA sul Fatto Quotidiano. Ecco, basi segretissime americane in questo caso avevano puntato 600 missili contestati nucleari, anche se più leggere, sulla Russia. e riferisce all'articolo stesso che ci sono altre basi. Ecco, questo è l'evidenza per un motivo solo, che a noi ci dicono una piccola parte di verità. Tutto il resto è cerato, nascosto, come sempre, dalla follia di molti uomini che vedono nella guerra, nella distruzione, l'unica possibilità di avere il potere, di tenere il potere in mano. E allora chiunque legge questo articolo si accorge e può capire il significato della pioggia di fuoco che potrà scatenarsi e scendere dal cielo. Sì, però voglio terminare questo video con la notizia pubblicata ieri del ragazzino, bambino, a Torino, che si è ucciso a 12 anni nel suo letto, nella sua stanzetta. E la riga che li porto in alto dice tutto, il bambino crescendo vede il mondo e, puntini puntini, sì, spaventato da esso, ha preferito uccidersi e addormentarsi per sempre. Questo rende la visione di come i bambini vedano il mondo e si spaventano e fortunatamente solo in pochi fanno una scelta estrema, come questo povero e fragile bambino. Le ultime parole scritte dal ragazzino sul foglio, Torino, ragazzo, 12 anni, si toglie la vita con il laccio della sua camera e ha lasciato scritto, voglio sparire.